Non accennano a diminuire le polemiche all'interno del Movimento 5 Stelle dopo la debacle elettorale alle 18 la riunione dei gruppi parlamentari. Fico lancia un appello, basta con le lotte intestine. In serata poi il vertice di maggioranza del governo, il segretario Dem Zingaretti sottolinea le parole di Grillo, certificano la diversità tra noi e il Movimento 5 Stelle, ma ora serve un compromesso per il bene del Paese. Nel centro-destra Matteo Salvini annuncia alla svolta della Lega che avrà presto una segreteria politica sul modello dei vecchi partiti e non esclude l'ipotesi di una costituente del centro-destra come chiesto dal governatore della Liguria, Toti. Sulla necessità di rilanciare un'area moderata interviene anche Mara Carfagna. Il quinquennio del populismo è finito, il sovranismo non è l'unica alternativa alla sinistra. La situazione in alcuni stati dell'Unione è preoccupante, più di quanto non lo sia stata a marzo. Le misure sono insufficienti. L'allarme sulla pandemia in Europa arriva da Bruxelles per voce della commissaria sulla salute. Restano difficili le situazioni in Gran Bretagna, Francia e Spagna. In Italia obbligo di mascherine nei vicoli di Genova. A Roma evacuato il mise per un dipendente positivo. Atteso il protocollo per il rientro dei tifosi negli stadi. Dopo la svolta europea sui migranti annunciata ieri dalla von der Leyen, sul tavolo del Premier conta il testo del nuovo decreto sull'immigrazione che già approvato dalla maggioranza attende ora la ratifica del Consiglio dei Ministri. Nove gli articoli del provvedimento cadono le sanzioni per il soccorso in mare da parte delle navi delle ONG e si ritorna all'accoglienza diffusa sul territorio. Negli Stati Uniti violente proteste dopo la sentenza del gran giurì che ha incriminato soltanto per condotta negligente le poliziotto responsabili della morte di Brionna Taylor, 26 anni, afroamericana, 46 arresti e due agenti feriti negli scontri di questa notte a Louisville in Kentucky. I manifestanti che chiedono giustizia scendono in piazza anche in altre città americane tra le quali New York e Washington. Ci sarebbe il nome di Fabio Paratici nelle intercettazioni telefoniche dell'inchiesta sull'esame d'italiano sostenuto dal calciatore Luis Suarez all'Università di Perugia dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per corruzione della rettrice del direttore generale dell'Ateneo si cerca di verificare il ruolo della società bianconera interessata ad acquistare il giocatore. Buongiorno e bentrovati a tutti voi. Dunque il risultato del voto anche se ha stabilizzato il governo ha messo in moto però tutta una serie di fibrillazioni all'interno della maggioranza se Conte, il presidente del Consiglio Conte, esclude qualsiasi tipo di rimpasto. Zingaretti invece chiede un cambio di passo al governo, la revisione, una nuova legge elettorale, il mess per la sanità e anche la revisione dei decreti sicurezza. Ma dall'altro lato c'è il Movimento 5 Stelle, le prese con la resa dei conti dopo il pessimo risultato alle elezioni regionali e questo risultato ha acuito le forti divisioni all'interno. Questa sera ci sarà il vertice con i capigruppo della maggioranza. Non sono piaciute agli alleati di maggioranza le parole del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo sulla democrazia rappresentativa da superare a favore di quella diretta. Non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare ma credo nella democrazia diretta fatta dai cittadini attraverso il referendum, ha detto Grillo, rilanciando la provocazione di un Parlamento composto da deputati estratti a sorte. Le parole di Grillo sono la conferma che il PD e il Movimento sono due formazioni politiche distinte, su questo molto distanti, io la penso all'opposto e che ora devono governare trovando dei punti di compromesso avanzati per il bene del Paese, le parole del segretario PD Zingaretti. Sulla stessa linea anche l'ex ministro del Rio che a Omnibus ha avvertito il Movimento. Ed è evidente che se questa fosse la loro intenzione, se volessero introdurre passi in questa direzione ulteriori, noi non saremmo disponibili, su questo non ci sono compromessi, c'è di mezzo prima di tutto la Costituzione, vorrei ricordare. I rapporti tra il Movimento e i soci di maggioranza rimangono tesi. Rinviato l'esame della legge elettorale, l'accordo rimane distante con il maggioritario che ritorna tema di discussione. Intanto il PD chiede con insistenza un'accelerazione sui dossier più divisivi, dei progetti sul recovery fund al MES, oltre che la revisione dei decreti in sicurezza targati Salvini. Le parole di Grillo, che ha anche preso le distanze dall'entusiasmo rispetto al recovery fund come soluzione alla crisi economica causata dal Covid, state costruendo una società del debito, questa è la società del debito, ha detto. Però sono rivolte in particolare ai suoi, alle prese con spaccature sempre più evidenti. È un richiamo identitario quello del leader pentastellato, ma soprattutto un tentativo di sponda all'ala casaleggio, con un richiamo proprio al sistema russo come primo passo per mediare tra le varie fazioni. La vittoria del SIA referendum è già passata in secondo piano rispetto alla battaglia in vista degli stati generali, per i quali non è stata ancora fissata la data. L'assemblea dei gruppi parlamentari di oggi si annuncia molto calda, con il reggente Vito Crimi che dovrebbe disertarla, e i punti su cui manca un accordo sono vari. Dal ruolo di casaleggio alla forma della prossima leadership, mentre l'ombra della scissione si allunga sul movimento, paventata da un esponente di primo piano come Carla Ruocco. Basta con le battaglie intestine, dobbiamo avere una collegialità maggiore, perché alcuni problemi ancora vivi nel movimento derivano da un verticismo troppo spinto che c'è stato, dice invece il presidente della Camera, Roberto Fico. La mediazione tra le varie correnti, Fico, Di Maio e Di Battista su tutte, al momento sembra però difficile. Ma in corso la discussione anche all'interno del centrodestra, la spallata al governo non c'è stata e adesso c'è uno scambio di accuse sia all'interno della Lega che tra Lega e gli alleati. I più critici sono sicuramente Toti e Carfagna, ma la vera novità arriva proprio dalla Lega con la formazione di una segreteria politica. Il partito sarà così più presente sul territorio, soprattutto al sud. La Lega avrà una segreteria politica stile vecchio partito che affiancherà il segretario nel suo lavoro. Lo ha annunciato lo stesso Matteo Salvini che dopo il voto regionale si ritrova in piena bufera, accerchiato dagli stessi alleati di centrodestra che gli rimproverano la mancanza di ascolto alle loro richieste e l'assenza di un progetto che rilanci la coalizione. Quello di Salvini appare come un primo passo verso una gestione del partito che gli lascerà mani più libere per concentrarsi sulle battaglie di tutto il centrodestra e non solo sulle sue, come rimarca Giovanni Toti, che forte della riconferma alla guida della regione Liguria lancia una richiesta ben precisa al segretario del Carroccio, una costituente del nuovo centrodestra, una federazione di forze che raccolga tutte le energie migliori nate in questi anni. Per essere il leader di tutti deve togliersi la maglia della Lega e cambiare schema in calza il governatore che si fa portavoce dei malumori all'interno dell'alleanza. Ancora più dura è Mara Carfagna, la sua critica è lapidaria, il quinquennio d'oro del populismo è finito, il sovraminismo non è l'unica alternativa possibile. La sinistra spiega la vicepresidente azzurra alla Camera che insieme a Toti mira a rilanciare l'area più moderata del centrodestra e la sua politica è europeista, liberale, garantista e popolare. Il segretario del Carroccio non chiude all'ipotesi di una costituente ogni cosa a suo tempo, dice, ma alle accuse degli alleati replica rivendicando con orgoglio i numeri della Lega, primo partito del paese. Se c'è qualcosa che non torna è l'offerta del centrodestra che non è stata all'altezza, dice, citando i casi della campagna della Puglia dove i candidati di Forza Italia e Fratelli d'Italia, Stefano Caldoro e Raffaele Fitto, sono stati sconfitti. La Lega aveva chiesto discontinuità e un progetto più innovativo, alla fine si è sacrificata per non rompere la coalizione, aggiunge Salvini, che assicura di non temere offensivi alla sua leadership, né da parte di Luca Zaglia che ha conquistato il suo terzo mandato alla guida della Regione Veneto sfiorando l'80% dei voti presi con la sua lista, né da parte di Giorgia Meloni, sempre più in ascesa con i suoi fratelli d'Italia, ma che per ora preferisce incalzare la maggioranza, questo Parlamento è delegittimato e non può fare le riforme. Sul fronte dell'epidemia ci sono le prime misure che sono state prese dagli amministratori locali che vanno oltre le disposizioni governative, è obbligatoria la mascherina all'aperto nel centro di Genova e così anche a Napoli, 24 ore su 24, misure proprio per contenere l'incremento dei contagi che in Italia sono in lieve aumento al fronte però anche di un maggior numero di tamponi effettuati. Ci sono diversi focolai nel nostro Paese, sicuramente il più grande in un asilo notturno a Padova. L'Italia sta meglio di tutti gli altri Paesi europei, una media di 1500 casi al giorno, altrove anche 10.000. Le dure lezioni dell'Italia aiutano a tenere la seconda ondata alla larga, ha scritto il Financial Times, ma bisogna fare attenzione, anche da noi gli indicatori Covid sono in risalita. La fondazione Gimbe oggi conta che nell'ultima settimana i pazienti ricoverati con i sintomi del virus sono cresciuti del 17% e quelli in terapia intensiva del 19%. Le morti passate da 70 a 105, 20 nella giornata di ieri. Ci sono diversi focolai da nord a sud, l'ultimo nell'asilo notturno per senza tetto di Padova e si cerca di correre ai ripari. In Campania, dove i contagi hanno superato quota a 5.000, da stamattina è scattato l'obbligo di indossare sempre la mascherina all'aperto fino al 4 ottobre. Serve massimo rigore se vogliamo evitare chiusure generalizzate, dice il governatore appena riconfermato, Vincenzo De Luca. Obbligo di mascherina all'aperto fino a domenica anche a Genova, nella zona del centro, zona arancione come alla Spezia. Oltre mille positivi, il doppio di quanto registrato nel lockdown, dove le scuole rimarranno chiuse fino a domenica prossima. Oggi le scuole ripartivano nelle ultime cinque regioni, fra queste Puglia, Campania e Calabria. Non tutto è filato liscio, a Catanzaro la riapertura è rinviata a lunedì per mettere a punto i lavori di prevenzione delle misure anti-Covid. Per evitare assenze e quarantene di massa nelle scuole si punta molto sui test rapidi della saliva. Oggi i primi sono stati fatti in un liceo di Anguillara vicino a Roma, ma all'ospedale Spallanzani, che avrà l'ultima parola sulla validazione di questo screening scettico. I test salivari antigenici a lettura visiva hanno dimostrato una capacità di rilevare la presenza del virus in meno del 10% dei campioni, risultati positivi al test molecolare standard. La priorità sono le scuole, non gli stadi, ha già commentato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, contrario al piano di portare la capienza degli impianti al 25%. Ma se l'Italia è tra i paesi a basso rischio, non è così per diversi paesi europei. La situazione è preoccupante, ha detto questa mattina la Commissaria della Salute, in alcuni casi ben peggiori del picco di marzo. Significa che le misure di controllo o sono state insignificanti oppure appunto insufficienti. La Francia sicuramente, insieme alla Spagna, è tra i paesi più colpiti. Il governo centrale, lo sapete, ha annunciato delle nuove restrizioni e questo ha creato delle frizioni, degli attriti con alcune città importanti francesi, come Marsiglia per esempio, che ha chiesto di riviare queste misure più drastiche. La situazione dei contagi da Covid-19 in alcuni stati dell'Unione Europea è peggiore rispetto a quella dello scorso marzo, quando si registrò il picco di diffusione del virus. Questo perché le misure di controllo dell'epidemia non sono state abbastanza efficaci o non sono state applicate oppure non sono state eseguite come avrebbero dovuto. È un quadro molto preoccupante, quello delineato questa mattina dalla Commissaria Europea della Salute, la cipriota Stella Criachides. È fondamentale che gli stati membri adottino tutte le misure necessarie. Già il primo segnale di nuovi focolai dice siamo in un momento decisivo, non possiamo abbassare la guardia. I numeri tornano a preoccupare. L'Europa ha oltrepassato nel suo complesso quota 5 milioni di contagi, 380 mila nuovi positivi solo nell'ultima settimana. In alcuni paesi la seconda ondata è già una realtà. Il governo spagnolo, dopo aver registrato un record di decessi, 241 in un solo giorno, e aver chiuso interi quartieri di Madrid, ha chiesto l'intervento dell'esercito per affrontare la nuova emergenza. Anche in Francia, dove i contagi sono circa 13 mila al giorno, l'allerta è massima. Il governo ha inserito ieri Parigi, così come Lione, Lille, Bordeaux, Nizza e altre città, in allerta rafforzata, che significa divieto di assembramenti, raduni limitati a non più di mille persone, bar chiusi alle 22. In altre città, come Marsiglia, nonostante la contrarietà degli amministratori, verranno addirittura chiusi a partire da lunedì tutti i locali pubblici, a meno che non siano già in grado di praticare uno stretto controllo sanitario. La Francia vuole evitare il lockdown, così come la Gran Bretagna, costretta a fronte di una impennata dei contagi, a chiudere pub e ristoranti alle 22, perché a preoccupare, sebbene il numero dei morti sia lontano rispetto a quelli della primavera scorsa, sono i ricoveri in ospedale. Questa mattina il governo belga invece ha annunciato che i primi vaccini Covid-19 dovrebbero essere disponibili nel paese, già a partire dal mese di marzo. Si tratta di quelli sviluppati dalla Sanofi. Tra l'altro in Italia, a Roma, c'è stato un caso di Covid nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico. La sede è stata chiusa perché è stata assenificata. Oggi era prevista una riunione su una importante vertenza, quella che riguarda Arserole e Mittal, e questo vertice è stato spostato quindi in un'altra sede. Un allarme coronavirus si rompe questa mattina nel Ministero dello Sviluppo Economico, due ore prima che si svolgesse l'attesa riunione tra i sindacati Exilva e i vertici di Arserole e Mittal. Un dipendente del di Castero è risultato positivo a Covid-19 e quindi la sede va evacuata per sanificazione. Trambusto, lavorio intenso, in meno di un'ora si organizza il trasferimento della riunione negli uffici della multinazionale franco-indiana. Un appuntamento che può assegnare un punto di svolta nel cronoprogramma di una trattativa in corso da mesi e finora povera di risultati. I sindacati metalmeccanici hanno rinviato lo sciopero previsto per oggi, nella speranza di vedere finalmente su carta la prossima settimana il testo dell'accordo firmato l'8 marzo, del quale conoscono solo contenuti riportati. Oggi i rappresentanti dei lavoratori affronteranno con Arserole due questioni fondamentali per il futuro del grande siderurgico di Taranto, sicurezza e lavoro. Due emergenze divenute, se possibile, ancora più stringenti. Negli ultimi mesi, denunciano le fonti sindacali, ci sono stati tre crolli parziali di strutture nello stabilimento Exilva, tre incidenti negli impianti che potevano essere mortali, dovuti all'assenza totale non solo di manutenzione straordinaria ma anche di quella ordinaria. La sicurezza, dice Antonio Talò della Wilm di Taranto, insieme all'uso smodato della Cassa Integrazione, in questo momento su 8.200 operai ne entrano in fabbrica meno di 3.000. Nei prossimi giorni si dovrebbe definire l'ingresso dello Stato nella Nuco di Taranto e si dovrebbe fare chiarezza sul percorso da intraprendere, fa sapere la FIM CISL che riferisce come, dalle analisi fatte, risulta che l'acciaieria abbia bisogno di un investimento da 3 miliardi di euro, fondi che dovrebbero arrivare soprattutto dall'Europa. Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, intanto denuncia l'assenza della città al mese. La discussione in corso non riguarda solo l'acciaieria, sottolinea, ma c'è una comunità intera che attende risposte su salute, tecnologie, ricollocamento possibili e suberi e futuro dell'indotto locale. Evidente che la pandemia ha avuto un impatto pesantissimo sulla economia, lo ha ribadito oggi la Banca Centrale Europea che parla di un triplice shock. La BCE descrive un futuro incerto, nonostante comunque questo quadro nero, questo quadro fosco, sussiste comunque ad una debole ripresa delle attività produttive che continuano però a dipendere, dice la BCE, sia dalla evoluzione della pandemia ma soprattutto anche dalle misure di contenimento. La pandemia ha colpito gravemente l'economia europea e mondiale facendo crollare i consumi privati come non mai dal dopoguerra. Il Covid continuerà a pesare come un macigno sul futuro della ripresa e sarà fonte di incertezza per tutti. E' questo il quadro che emerge da bollettino mensile della Banca Centrale Europea che è pronta però a cogliere anche i segnali positivi registrati nei mesi estivi. Secondo Francoforte, infatti, nel terzo trimestre di quest'anno la crescita del prodotto interno lordo sarà pari a più 8,4% nei 19 paesi dell'euro. Sarebbe in atto dunque una ripresa delle attività economiche che, secondo le stime della BCE, dovrebbe continuare anche nell'ultima parte dell'anno, ma a condizione che la pandemia sia tenuta sotto controllo e che non si verifichino nuovi lockdown. Un'eventualità non da escludere visto l'andamento della diffusione del virus in paesi come la Francia e la Spagna, senza considerare poi altri rischi a ribasso provenienti dalla difficile trattativa sulla Brexit. Certo è che per la BCE l'economia europea recupererà il terreno perduto e tornerà ai livelli pre-Covid solo dopo la seconda metà del 2022. Per questo Francoforte sarà pronta a mettere in atto tutti gli stimoli monetari per sostenere la ripresa nell'eurozona e adeguare tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere l'inflazione, che probabilmente rimarrà negativa nei prossimi mesi. Per diventare positiva, si legge nel bollettino, solo agli inizi del 2021. Anche Standard & Poor's, l'agenzia americana di rating, ha dovuto rivedere in meglio le sue precedenti stime economiche relative all'Europa e all'Italia in particolare. Per il nostro Paese il PIL quest'anno non scenderà a meno 9,5% ma a meno 8,9%, mentre l'anno prossimo la crescita è prevista al rialzo da più 5,3% a più 6,4%. Il tema dell'immigrazione, il Viminale, questa mattina ha autorizzato l'Alan Kurdi che ha a bordo circa 125 migranti a sbarcare in Sardegna. La nave si stava dirigendo a Marsiglia ma si trovava in difficoltà per le condizioni pessime delle mare. I migranti saranno ricollocati, ha detto il Ministero dell'Interno. Intanto è pronto il testo del nuovo decreto che modifica i decreti legge sulla sicurezza che ricorderete erano stati fortemente voluti dall'allora Ministro dell'Interno Salvini. Il nuovo decreto legge sull'immigrazione attende solo di essere portato in Consiglio dei Ministri per l'approvazione. Il testo che modifica i decreti sicurezza voluti dall'ex Ministro dell'Interno Salvini è a Palazzo Chigi già da un mese. Nove articoli che sono andati oltre alle modifiche richieste ormai più di un anno fa dal Presidente della Repubblica Mattarella. A cominciare dall'abolizione delle maxi-multe per le navi dell'ONG che entrano in acque italiane senza permesso dopo aver salvato i migranti in mare. Saranno rivisti ed ampliati anche i requisiti sulla base dei quali verrà concessa la protezione internazionale. Saranno riattivati inoltre anche i servizi destinati all'integrazione sociale dei richiedenti asilo e si tornerà allo SPRAR, il sistema di protezione per i richiedenti asili ai rifugiati che prevede una rete di assistenza diffusa gestita dai comuni. Abbiamo modificato il sistema d'accoglienza anche per coloro che sono richiedenti asilo affinché entrino nel circuito identico a quello che oggi è riservato a coloro che sono titolari di protezione umanitaria, ritornando un po' come era prima, ha commentato la Ministra Lamorgese. Si discute del decreto proprio all'indomani del patto sui migranti proposto dalla Commissione europea che prevede una riforma del Trattato di Dublino in modo da non far gravare tutto il peso degli arrivi sui paesi di primo ingresso. Il patto prevede un meccanismo di solidarietà obbligatorio in base al quale tutti gli Stati membri dovranno scegliere tra ricollocamenti e rimpatri. Fredde le reazioni del Viminale, il patto non indica ancora quel netto superamento del sistema di Dublino da noi auspicato. Il Ministero dell'Interno ha intanto autorizzato lo sbarco dell'Alan Kurdi con 125 migranti a bordo in Sardegna a seguito della richiesta della stessa nave di potersi avvicinare alle coste sarde a causa del peggioramento delle condizioni meteo. Contestualmente allo sbarco è stata avviata anche la procedura di ricollocamento e l'80% dei migranti soccorsi dovrebbe essere trasferito in altri paesi europei. Ci sono nuovi sviluppi sull'inchiesta che riguarda appunto il caso Suarez nell'intercettazione dell'inchiesta della Procura di Perugia sull'esame palesemente falso sostenuto dal calciatore Luis Suarez e spunta il nome anche di un importante dirigente della Juventus Paratici. Il suo nome ricorre nelle telefonate tra gli indagati ma non c'è alcun rilievo penale. Gli indagati al momento sono i vertici dell'Università per stranieri di Perugia. I contatti, le presunte pressioni, le conversazioni su un esame di italiano che per gli inquirenti era una palese farsa con domande concordate e risposte imparate a memoria. Le indagini della Procura di Perugia sul test sostenuto dall'attaccante uruguaiano Luis Suarez una settimana fa all'Università per stranieri della città Umbra vanno avanti e nei colloqui registrati dalle fiamme gialle per indagini che in origine riguardavano i problemi finanziari dell'Ateneo spunta anche il nome di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Il suo nome verrebbe fatto dai dirigenti dell'Università per stranieri iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di corruzione, falsa ideologica e rivelazione del segreto d'ufficio insieme alla commissione esaminatrice. Se ne è interessato Paratici sarebbero le parole del direttore generale Simone Olivieri, una sorta di sentito dire ripetuta ai colleghi perché almeno al momento agli atti non ci sarebbero contatti diretti tra il direttore sportivo della Juve ai vertici dell'Università perugina. L'unica persona raggiunta telefonicamente da Paratici sarebbe il rettore dell'Università di Perugia Maurizio Oliviero che oggi in una nota diffusa ha specificato però che il contatto con il dirigente bianconero c'è stato soltanto a esame avvenuto. Una chiamata di cortesia la definisce Oliviero. Né lui né Paratici sono iscritti nel registro degli indagati così come non ci sono ipotesi di reato che riguardano Maria Turco, legale vicino alla Juventus che si è mossa per far sostenere a Suarez l'esame nell'Università per stranieri di Perugia. Ieri ha smentito con un comunicato di aver fatto pressioni o di aver promesso qualcosa all'Ateneo. Indagati e testimoni verranno ascoltati nei prossimi giorni nel tentativo di capire se c'è stata corruzione, il che al momento resta soltanto un'ipotesi. Dopo gli interrogatori gli atti verranno inviati anche alla giustizia sportiva con la Federcalcio che ieri ha aperto un'inchiesta per capire se possa esserci un coinvolgimento di qualche tesserato e la violazione dell'articolo 32 del codice della FIGC. Dall'estero l'Unione Europea non riconosce Alexander Lukashenko come presidente della Bielorussia. La posizione ufficiale è dunque decisamente da sottolineare, è stata espressa dal capo della diplomazia dell'Unione Borrell questa mattina. Il nuovo mandato manca di ogni legittimità democratica, ha detto Borrell commentando l'insediamento decisamente in sordina avvenuto ieri di Lukashenko. Nonostante la scarsa pubblicità data all'evento, tuttavia nel Paese ci sono state decine di manifestazioni di protesta che si sono concluse a tarda sera. Almeno 364 le persone arrestate, di cui 252 nella capitale Minsk, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno bielorusso. Ed è sempre più accesa la campagna elettorale negli Stati Uniti con Trump che non ha nessuna intenzione di rendere la vita facile all'avversario Biden, ma soprattutto ci sono le proteste anche violente che sono esplose nella città americana dopo la decisione delle gran giuria a Louisville nel Kentucky sulla morte di una donna afroamericana uccisa nella sua abitazione. Neppure il coprifuoco imposto ieri sera dal sindaco Greg Fischer come misura di emergenza ferma le proteste in corso a Louisville nel Kentucky contro la decisione del procuratore David Cameron di incriminare esclusivamente per condotta negligente solo uno dei tre poliziotti che a marzo scorso hanno ucciso la 26 anni afroamericana Briona Taylor. Intervenuti nel corso di un'operazione antidroga pur non avendo trovato nulla nell'appartamento della Taylor, gli agenti avrebbero risposto al fuoco del fidanzato sparando più di 30 colpi e uccidendo la giovane. Per questo da mesi i manifestanti chiedono giustizia. Nella notte però la rivolta di Louisville è diventata violenta e durante gli scontri due poliziotti sono stati feriti da colpi di arma da fuoco. Sebbene uno di loro sia stato operato le loro condizioni non sarebbero gravi. Il capo della polizia cittadina ha confermato il fermo del presunto responsabile degli spari. Non macchiate con la violenza l'eredità di Briona e il richiamo accorato del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden, ma le proteste dilagano in molte altre città degli Stati Uniti, da Washington DC a New York, fino a Chicago, Los Angeles, Philadelphia, Kansas City e Indianapolis. Per Donald Trump il procuratore del Kentucky è una star. In piena ebrizza elettorale il presidente americano non sembra fermarsi davanti a niente. Fino a mettere in discussione, in caso di sconfitta, persino il passaggio di consegni e la pacifica transizione del potere. Potrei perdere solo se ci fossero brogli, il suo mantra scaramantico. Ieri Trump ha addirittura legato il risultato delle urne alla battaglia per la Corte Suprema. Debbono esserci nove giudici. Sabato presenterò la candidata che prenderà il posto di Ruth Bader Ginsburg, ha ribadito, perché penso che le elezioni finiranno davanti alla Corte. All'avversario Biden, che sebbene allarmato tenta di ironizzare, ma in che paese siamo, risponde il senatore repubblicano Mitt Romney. Senza transizione pacifica, siamo in Bielorussia. E continua senza sosta l'impegno degli attivisti volontari ed esperti di cercare di salvare qualche esemplare delle quasi 500 balene spiaggiatesi lungo la costa ovest della Tasmania. Una settantina di animali che sono tornati a nuotare in mare, aperto uscendo dalle secche sabbiose, dove si erano incagliate a partire dal lunedì scorso, quando erano stati segnalati i primi episodi. Il bilancio è tuttavia molto pesante, almeno 370, quelli sicuramente morti, tanto che ora si pone anche il problema dello smaltimento delle carcasse. Sulle cause del fenomeno si avanzano diverse ipotesi, ma solo l'autopsia sugli animali potrebbe fornire qualche spiegazione. Torniamo in Italia perché la scrittrice siciliana Giovanna Giordana è stata candidata al premio Nobel per la letteratura 2020 tra quattro università, da quattro università svedesi. Tra i suoi romanzi più noti ricordiamo 36.000 giorni, un volo omagico e il mistero di Litian, il vincitore del premio, sarà annunciato a Stoccolma giovedì 8 ottobre. Ieri vi abbiamo parlato dello smart working nella pubblica amministrazione, oggi invece ne parliamo riferendosi invece al settore privato, ricordando anche che lo smart working intiene ancora lontano dagli uffici più della metà dei lavoratori del terziario. Gli uffici sono ancora in parte vuoti, voi avete ripreso a lavorare? Siamo al 50-60%. Soprattutto il mezzogiorno praticamente è finito il lavoro, senza gli uffici sicuramente si è dimezzato, se non hai perso almeno due terzi. I primi ad accusare lo svuotamento dei quartieri del terziario nelle grandi città sono ristoratori e baristi. Facevano il grosso dei guadagni con le pause pranzo e ora faticano a tornare ai tempi pre-lockdown. Le piazze della Milano 2.0 hanno cambiato faccia, in queste tre torri lavoravano oltre 4.000 dipendenti, ora circa 1.000. Anche City Life insieme a Piazza Gaia Ulenti, simbolo della Milano più avveniristica e svuotata, in uno dei grandi grattacieli di proprietà di un gruppo assicurativo italiano, più del 90% degli addetti lavora ancora da casa e fino a fine anno i numeri saranno questi. Città che vivono sui consumi di pendolari e lavoratori fuori casa ora accusano il colpo. La pausa pranzo di un lavoratore cuba circa il 20-30% del fatturato di un pubblico esercizio tavola calda o tavola fredda. È inevitabile che su queste attività commerciali noi togliamo un 20-30% di fatturato per effetto negativo dello smart working, al quale poi sommiamo l'assenza di turisti, soprattutto internazionali, abbiamo attività che hanno perdite intorno al 50% del fatturato. Inevitabilmente questo comporta poi che le imprese dichiarano quasi una su tre e rischiamo di chiudere. Con gli uffici chiusi anche le mense lavorano molto meno e il settore è in crisi nera. 20.000 addetti rischiano di perdere il posto, ma alle aziende conviene il lavoro smart. In molte imprese, soprattutto nelle imprese grandi, multinazionali, in realtà era un fenomeno che esisteva. Era un fenomeno che era stato molto preparato con degli investimenti importanti e che aveva cambiato le modalità di svolgimento del lavoro, chiaramente per alcuni giorni a settimana. In quei casi gli effetti positivi sulla produttività del lavoro, sulla soddisfazione dei lavoratori, ci sono visti immediatamente anche durante la pandemia. Il lavoro da casa non serve solo a non affollare gli uffici, ma anche i mezzi pubblici. I trasporti locali, già con l'apertura delle scuole, hanno dovuto aumentare la capienza all'80% rimuovendo il distanziamento tra i posti a sedere. Città metropolitana intende riunire un tavolo tra agenzia del trasporto pubblico locale, istituzioni e aziende per armonizzare gli orari di migliaia di persone che potrebbero tornare dietro le scrivanie. Ci fermiamo adesso, dopo la pausa pubblicitaria torniamo con la pagina sportiva, vi aspettiamo. Eccoci di nuovo in diretta, riprendiamo il filo delle notizie perché dopo la parziale riapertura degli stadi limitata per ora soltanto a mille spettatori, il calcio attende di sapere se il comitato tecnico-scientifico darà parere favorevole alla proposta del ministro dello sport Spadafora affinché il limite possa essere esteso, elevato al 25% della capienza dei singoli impianti. Stadi aperte a porte chiuse. Un paradosso per riassumere le tensioni sulla strada verso una riapertura degli impianti ai tifosi che fino ad oggi è stata solo parziale e solo parzialmente coordinata. Oggi è attesa l'approvazione da parte della conferenza delle regioni di un nuovo protocollo per una graduale riammissione degli spettatori che domani verrà poi sottoposto per l'approvazione al comitato tecnico-scientifico. Alla base della nuova normativa studiata sotto la supervisione del ministro dello sport Spadafora alcune regole blindate che dovranno valere per tutti gli impianti all'aperto e al chiuso, compresi quelli delle società dilettantistiche. Due i tetti previsti per l'ammissione agli stadi all'aperto. Il 25% della capienza e 1.000 spettatori per settore, mentre per i palazzetti si scende a 200. Sul cammino verso l'effettiva riapertura, che se approvata potrebbe essere operativa già dal 4 ottobre, molti sono però ancora i punti interrogativi. Ad esempio la suddivisione rischia di creare difficoltà negli impianti di serie A più grandi, che con una capienza teorica di quasi 20.000 spettatori richiederebbero nuove suddivisioni dei settori, oltre a creare rischi di assembramento agli ingressi. E poi c'è la contrapposizione tra ministri. Ieri a Spadafora aveva indirettamente risposto il ministro della Salute. Prima le scuole, poi gli stadi. Aveva chiusato in serata Speranza. Di certo c'è che il mondo dello sport attende con ansia crescente. È necessario lo sblocco di una situazione che, se per il calcio di serie A riveste una gravità economica solo relativa, minaccia di mandare definitivamente in crisi le serie minori e gli altri sport. Oggi il numero uno della Federbasket, Petrucci, ha parlato di rischio default per la palla canestro. Ma dall'altra parte ci sono i numeri sotto cui sono caduti i tentativi di riapertura in altri paesi. La Gran Bretagna, che aveva ipotizzato open doors da ottobre, ha rimandato di sei mesi almeno lo sblocco ed il rischio di forzare i tempi è sempre alto. Questa sera, per la Supercoppa europea tra Bayern, Monaco e Siviglia a Budapest, la pusca sarena sarà aperta per 20.000 tifosi nonostante il premier ungrese Orban abbia chiuso le frontiere dal 1 settembre e il sindaco della capitale Magiara avesse espresso il suo dissenso all'ammissione dei tifosi. Ho davvero il mal di pancia quando penso alle condizioni sanitarie in cui si giocherà il match. Il tasso di infettività di Budapest è doppio di quello di Monaco di Baviera. E più che una constatazione, quella del presidente del Bayern, Rummenigge, ieri è stata un epitaffio. E questa sera intanto si torna al calcio giocato con il Milan che per qualificarsi ai play-off di Europa League dovrà battere al Meazza i norvegese del Bodo Klimt. I preliminari di Europa League sono come un videogioco tre livelli con difficoltà crescenti. Il Milan ha superato una settimana fa il primo e stasera San Siro affronta il secondo. L'avversario non è di quelli che fa paura, si tratta del Bodo Klimt, squadra norvegese la cui ultima apparizione europea risale a 16 anni fa. Ma questo non basta a far abbassare la guardia Stefano Pioli che predica prudenza. Nel campionato norvegese hanno vinto 18 gare su 20 e poi sostiene il tecnico rossonero. In una gara secca può succedere di tutto. Anche il Milan in serie positiva non perde da 15 gare. Dopo il Covid ha giocato meglio di tutti vincendo quello che qualcuno ha definito lo scudetto di tampone. Una trasformazione improvvisa. Se si pensa che soltanto pochi mesi fa, prima che il campionato venisse interrotto, Paolo Maldini sembrava un dirigente a passo d'addio e Pioli un tecnico vicino all'esonero. Poi tutto è cambiato e il Milan è diventato una squadra e Ibra ha dimostrato che anche a quasi 39 anni si può fare la differenza. Posizioni in classifica recuperate e accesso all'Europa League conquistato sia pure passando per la lunga anticamera dei preliminari. Le ultime dal campo dicono che non dovrebbero esserci cambi rispetto alla squadra che ha battuto il Bologna tre giorni fa. L'unica novità riguarda Duarte è il risultato positivo al Covid e naturalmente finito in isolamento. Per tutto il Milan è scattato il protocollo di prudenza, allenamenti individuali in attesa dei risultati del tampone fatto ieri. Se i rossoneri stasera abbattono i norvegesi prima dell'approdo, la fase a Gironi, ci sarebbe da superare ancora il play-off con la vincente di Rioave, Besiktas. In ballo c'è un tesoretto potenziale di 25 milioni, soldi che potrebbero essere investiti per completare il mercato. Manca un difensore, il prescelto Milenkovic, che però è valutato dalla Fiorentina, non meno di 40 milioni. Inoltre c'è da superare la concorrenza dell'Inter che sta per vendere Skriniar al Tottenham, la richiesta del club nerazzurro è di 50 milioni, gli inglesi ne offrono 40. Anche Brozovic e Eriksen potrebbero partire per far posto accant'è il grande desiderio di Conte, ma il Chelsea chiede non meno di 50 milioni. Chiudiamo adesso con una notizia che riguarda Alex Zanardi, l'ex pilota che ricorderete ha avuto un bruttissimo, un gravissimo incidente nel Senese il 19 giugno scorso. C'è un comunicato del San Raffaele dove Zanardi è ricoverato e parla di progressi significativi. Zanardi ora interagisce, l'ex pilota risponde a stimoli visivi e acustici, ma comunque il quadro resta complesso. C'è stata la ricostruzione cranio-facciale eseguita con successo, questo dice il comunicato, presto ci sarà un nuovo intervento, ma sulla prognosi è assolutamente prematuro sbilanciarsi. Allora speriamo bene, speriamo che migliori Zanardi. Adesso il telegiornale si conclude, vi lascio adesso a Tagadà, grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi.